Guarda Mario, insomma capi il gioco Matti, guarda come l'ho messo le armi Guarda Mario, insomma capi il gioco Matti, guarda come l'ho messo le armi E io, Paolo Faccio il po' la musica Faccio il po' la musica Mi schiovo il po' la musica E' questo cos'è? E' questo cos'è? E' il rossetto del reno E' bravo, bravo E' come? E' un'altra cosa E' un'altra cosa Ma gioca ben Gioca l'oro, vabbè, gioca l'oro Anche 5 scelte, la prima volta qui deve essere distrutto in battaglia Qui ha salvato i tuoi, la prima volta, ormai è solo 2.5 Ora prima volta, giusto? Sì, ormai è solo 2.5 Ora è solo 2.5 È ancora 2.5 2.7 Che è la prima volta che non puoi essere distrutto? Già è stato parato Ah ok, quindi è la muota Quanto vale? 10 del 4 battle È arrivato... Questa è stata brutta Ma in che anno siamo? Sono pure rimosse Nooo Brutto Andrà bene per dimenticare Grazie 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 Ah Non mi raccomandola Non mi raccomandola Ma non è male anche di più Siamo trattata Non mi raccomandola Allora, non mi raccomandola quindi devo contare pure 500 di prima io sono più o meno una volta attaccato non ho capito devo fare almeno 500 è un secondo effetto si può raggiungere a lontano a scurità perché è stato un problema si ma deve raggiungere un secondo a scurità gliela aggiunta quindi l'effetto non va solo questo questo bambino peccato l'effetto è di 100 non da niente 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 si dichiara e si risolve in alto non da niente ma adesso no ma dai geni alla mano non da niente non da niente non da niente è cosa negativa faccia la matura ma non da niente ok 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 la tua carta se l'ha presa lui la carta qua, controlla l'acqua troppo ha funzionato mi fa dare una una carta via da descalare dalla cimilata atto posso posso si 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 pa pa Non lo puoi fare. 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 punto de siも. puoi fare. puoi fare. puoi fare. Vale. E' finita? Che ha vinto? Che ha vinto? Che ha vinto? Un trollaio, finito! Un trollaio? Che ha vinto? E' un'occurso. ma è staccato mmmm scattolo di un po' qui è un po' non mi penso ma non mi fai dare 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 no, non mi fai dare buone ok 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 Grazie a tutti 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 Attaccio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti